Bene, vediamo velocissimamente quanto ho visto la volta scorsa sulla cinematica relativistica e completiamo questa parte. Pardon. Abbiamo visto che la... Dove l'aspetto? La relatività di Einstein si basa su due principi. Il principio che è identico a quello dell'attività galileiana, cioè le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, abbiamo già detto che sono i sistemi di riferimento inerziali a volte scorsa, vedete mi serve se lo ripeto se non vado avanti, e due, il fatto nuovo, quello che in realtà cambia tutto, è una cosa semplicissima, cioè il fatto che in conseguenza dei risultati per esempio dell'esperimento di Michelson-Morley, la velocità della luce è invariante, cioè la natura è fatta in modo tale che esiste qualcosa che ha la stessa velocità in tutti i sistemi e quindi di riferimento. Questo cambia tutto. Cambia il concetto di spazio, di tempo, cinematica, massa, energia, dinamica. Abbiamo visto in particolare la volta scorsa come costruire un orologio. Perché? Perché questo ci dice qual è la nuova, la natura relativistica del tempo. E per farlo abbiamo usato un semplicissimo processo, una emissione, una riflessione, una recezione di un segnale luminoso, vista di due sistemi di riferimento diversi. Questo fa sì che, abbiamo visto anche la relatività della simultaneità, questo fa sì che due sistemi di riferimento distinti, sempre inerziali, danno una misura, cioè col loro orologio, da due letture diverse, a seconda che siano il sistema di riferimento in cui il tempo è proprio, cioè misurano intervalli di tempo di fenomeni che avvengono nello stesso luogo, detto in soldoni, un sistema di riferimento in cui l'orologio è fermo, oppure un sistema di riferimento in cui ciò che devo misurare comporta un processo che avviene in luoghi diversi, come quello in cui l'emissione e la recezione del segnale luminoso avviene in posti diversi, cioè quello in cui vedo la mia astronave che si muove. Nel sistema in cui l'astronave si muove io misuro un tempo più lungo, il tempo viene dilatato, d'accordo? Di un fattore gamma, fattore di Lorenz gamma. Abbiamo visto che questo effetto è misurabile, è stato misurato e non solo, ma viene applicato tutti i giorni, per esempio nel contesto del GPS. Il sistema GPS, il Global Positioning System, è stato costruito per monitorare la posizione di oggetti sulla superficie della Terra e non funzionerebbe, cioè avrebbe errori di chilometri, errori che si accumulerebbero nel tempo se non tenesse conto degli effetti relativistici. Qui ho leggermente barato perché? Perché in realtà gli effetti della relatività generale sono più intensi addirittura di quelli dell'attività speciale. Il fatto che, se avremo modo di arrivarci, i due luoghi dove si trovano, quello che usa il sistema GPS, cioè il tizio che sta sulla Terra, se io ho il cellulare e voglio andare in un indirizzo, dove devo recarmi e uso la Google Maps, che usa il GPS, sono in un posto dove la gravità ha un certo valore, mentre il satellite sta in un posto dove la gravità ha un altro valore e questa differenza produce effetti più intensi. Però non so se possiamo andare a ripare a quello, però tenete in conto anche dell'effetto dell'attività speciale, cioè il fatto che i due sistemi sono in modo relativo diverso, una certa velocità l'uno rispetto all'altro. Abbiamo il filmato. Sempre l'invarianza del portale della luce ha effetti anche sulle lunghezze, sullo spazio, sul concetto di come misurano le distanze e qui in realtà gli effetti sono diversi a seconda che misurano le distanze di punti che si trovano a una distanza perpendicolare alla direzione del moto oppure lungo la direzione del moto. Se misuro un oggetto che si muove lungo, cioè che ha una distanza parallela alla direzione della velocità, ho un effetto di contrazione delle lunghezze, cioè vedo un oggetto più schiacciato nella direzione del moto, mentre perpendicolarmente al moto la lunghezza non cambia e la contrazione è di un valore 1 su gamma, cioè inverso a quello del tempo. Ovviamente perpendicolarmente al moto le lunghezze rimangono invariate. Punto chiave, punto chiave perché questo riassume e contiene tutto la vista. Hanno visto che formalmente l'incompatibilità tra la relatività galideiana e le equazioni di Maxwell è legata a come si compongono le velocità o, si preferisce, come passa da un sistema di riferimento a un altro. Come si modificano le relazioni che legano sistemi di riferimento inerziali diversi in ambito relativistico, cioè se la velocità della luce è un invariante. Beh, questa serie di regole che siamo leggi di trasformazione, per Galilei le abbiamo già viste, immaginiamo proprio di avere, come avevamo già visto, i due tizi, uno sul treno che viaggia, l'altro, il parente, l'amico che saluta la stazione, allora le leggi di trasformazione, cioè come metodo accordo il sistema del tizio che sta fermo in stazione e il sistema del viaggiatore sul treno, sempre che si muovono con velocità relativa uniforme, attenzione, sono il fatto che la posizione rispetto alla stazione è quella rispetto al treno più lo spostamento del treno, velocità per tempo, mentre le coordinate perpendicolari al moto rimangono invariate, ok, qui il treno si muove nell'inverso dell'asse delle x, qui avete i due sistemi, e quindi la velocità lungo l'asse delle x si compone come la velocità rispetto al treno più quella del treno rispetto alla stazione, molto semplice, d'accordo? E le accelerazioni rimangono invariate, attenzione, questo l'abbiamo anche verificato sperimentalmente, finché la velocità è piccola non c'è problema. che succede invece se devo tener conto degli effetti relativistici sullo spazio e sul tempo appena visti? Beh, in parte si modifica un po', l'ultima parte ecco, la posizione del viaggiatore rispetto alla stazione c'è la coordinata x, sarà lo spostamento del treno vt, ok, che questa volta è rappresentata da questa grandezza, a cui viene affiancato non tanto x primo, perché x primo sarebbe la coordinata, la posizione dell'oggetto che viaggia rispetto al treno, ma io nel mio sistema di riferimento quella distanza, quella posizione la vedo compressa, la vedo accorciata per il fattore di Lorentz, di cui devo tener conto. Quindi qui avrò x primo per radice di 1 meno v quadro su c quadro, ok? Qui risolvo rispetto a x primo, che è la mia incognita, e vedo che la coordinata, la posizione dell'oggetto, della persona che viaggia sul treno rispetto al treno è quella del mio sistema di riferimento, meno vt fratto il fattore di Lorentz, 1 radice di 1 meno v quadro. In modo del tutto analogo posso ricavare come si trasforma la coordinata tempo, più algebricamente è un poco più lungo, ma il principio è lo stesso, per esempio posso andare a scrivere il moto di un fronte d'onda in un sistema di riferimento e in un altro, ok? Qui avete l'equazione. Siccome la velocità della luce è la stessa, c è la stessa in un sistema e nell'altro. La novità notevole è il fatto che qui, come vedete, il tempo si trasforma non solo in funzione del tempo, cioè t primo, il sistema, la coordinata temporale misurata dal tizio che viaggia, non solo non è la stessa rispetto al valore del tempo della persona che sta ferma in stazione, ma dipende anche dalla posizione. Questo era inconcepibile in ambito della relatività di Galileo e di Newton. La coordinata temporale, l'etichetta tempo che io appiccico a un evento, a qualcosa che succede, dipende non solo dal tempo, ma anche da dove avviene. Cioè, la persona che viaggia sul treno, se osserva un fenomeno che avviene in stazione, per esempio, che quindi a cui, quindi il tizio che sta in stazione dà una coordinata spaziale x e una temporale t, entrambe queste due influenzano t primo. Per cui i due tempi hanno valori diversi. Questa relazione ci risolverà, ci risolverà diverse sorprese come vedremo più avanti. Ok? Quindi, le trasformazioni su come si legano un sistema di riferimento inerziale a un altro in modo relativo uniforme, ci chiamano trasformazioni di Lorenz e sono riassunte in questo riquadro. T primo è il sistema del viaggiatore, del treno, per capirci, mentre t e x sono nel sistema della stazione. Per invertirle, per passare da stazione a, da treno a stazione, basta cambiare il segno della velocità. Il fattore di Lorenz è o v quadro, quindi questo non cambia, ma sopra, se osservate, al posto di v metto meno v e ho le trasformazioni inverse, niente di più facile. Richiamo la vostra attenzione su una cosa, questa è stata una domanda che io faccio spesso agli esami. Come mai si chiama trasformazioni di Lorenz e non di Einstein? Se fanno parte della relatività, dovrebbe averle trovate lui. In realtà erano state formulate molto tempo prima, poi sono state specificate e dettagliate circa un anno prima che Einstein scrivesse il suo articolo nel 1905. E vengono attribuite a Lorenz, ha ragione, perché Hendrik Anton Lorenz, era un temporaneo di Einstein, in cui si era già posto la domanda, ok, se io ho le equazioni di Maxwell, queste cambiano se io le scrivo in un sistema o in un altro, se uso le trasformazioni di Galileo. Quali sarebbero le trasformazioni che rendono invece le equazioni di Maxwell invarianti? Siccome le trasformazioni di Maxwell sono importanti e le scrivono l'elettrodinamica in tutti i sistemi di riferimento, che strutture dovrebbero avere delle trasformazioni che le lasciano uguali a quali sono? Perché se io uso le trasformazioni di Galileo appaiono nell'equazione di Lorenz, nell'equazione di Maxwell, termini che prima non c'erano. Cioè, in un sistema o in una forma, in un altro sistema neanche, in un'altra. In che modo posso collegare sistemi di riferimento diversi? In modo che le equazioni abbiano la stessa forma, che non cambiano di significato. Risposta è la trasformazione di Lorenz. Ecco perché si chiamano di Lorenz. Quindi, Lorenz e anche Poancare avevano già tutto in mano. Avevano la relatività davanti al naso. Ma non ce ne sono affatti. Non hanno realizzato le conseguenze. Punto molto importante Finché Non si è presentata l'esigenza, tra virgolette, che mi mettiamola così in modo molto cara a terra Non c'era bisogno della trasformazione di Giorgio. Quelle di Giorgio andavano benissime. L'abbiamo verificato l'altra volta Con quel semplicissimo esperimento sul carrello. Quando è che diventano importanti queste trasformazioni? Beh, se Ho a che fare con la luce O quantomeno con oggetti molto veloci. Ma allora, quelle di prima sono sbagliate? La risposta è no. Non sono da buttare via. La meccanica di Newton non è da buttare via. Anzi, la usiamo comunque tutti i giorni. La nuova meccanica, la nuova cinematica Include quella di Newton, che è di Galileo Come caso speciale. Cioè è una generalizzazione. Vale in casi più ampi. E quella di Newton E quindi la trasformazione di Galileo Sono un caso limite. Un caso semplice In cui ho a che fare con velocità molto piccole. Quando le velocità sono molto più piccole Rispetto a quelle della luce Che sono le velocità con cui dobbiamo capire tutti i giorni Allora mi vanno bene quelli di Galileo Dire velocità piccole è equivalente a dire velocità della luce infinitamente grande Ok? Se io applico un limite per C che diverge Alla trasformazione della posizione Qui ottengo che questo denominatore va a 0 Quindi qui rimane radice di 1 Per cui il denominatore, il fattore di Lorentz diventa 1 Quindi ritrovo la legge di Ritrovo le vecchie trasformazioni Quindi idem per il tempo Se C diverge Il denominatore va a 1 E la seconda parte del numeratore tende al 0 Quindi C diventa di primo Il tempo diventa assoluto Certo, però Se dire fisicamente Le mie velocità sono molto piccole E' equivalente a dire La velocità della luce è di galità infinitamente grande Rispetto a quelle con cui ho che fare Ok? Perché? Perché fisicamente Anzi matematicamente Se io faccio tendere via 0 Sparisce anche questo termine Quindi ho tutto fermo Oppure se voi possiamo vedere anche in questo modo Se vivessimo in un universo in cui La luce ha velocità infinita O meglio Come vedremo a breve Se fosse possibile Che esistano oggetti Che si muovono in velocità infinita Allora non esisterebbe la relatività via Un universo in cui Tutto va come predice Galileo Ma in quello diverso Le cose di Marcia Avrebbero un'altra forma Attenzione Veniamo a un punto nodale Proviamo A ottenere Dalle equazioni Che abbiamo appena visto Cioè Dalle trasformazioni di Lorenz La legge di composizione delle velocità Che è quella che ci interessa in particolare Se ho un oggetto che si sposta Vi ricordo Che le logiche di combinazione erano queste Se cambiano La posizione nel tempo Allora Scusate Ecco Lo intervallo temporale Nel sistema di riferimento Della stazione Vale Gamma volte Quello Nel sistema di riferimento Del treno Più V Lo spostamento Rispetto al treno Moltiplicato per C E per V Diviso C Quadro Se osservate E' sufficiente Se parlo di differenziali Non si sconvolge nessuno Giusto? Lo spostamento E' una variazione Infinitesima Della posizione D'accordo? Quindi qui è sufficiente Differenziare Sia T che X Ok? E qui cambiano Che cosa? Solo T' X' Quindi il denominatore Funge da costante Per cui ottengo Queste relazioni Dopodiché Ho quindi Come si comportano Gli intervalli temporali Il DT Nel sistema del treno E quello della stazione Come si comportano Gli spostamenti Di X E di X' Nel sistema di riferimento E posso combinarli Per avere le velocità Notate che Gli spostamenti Perpendicolari Al moto Qui abbiamo Un oggetto Che si muove Su un gas Dell'X Sono gli stessi Sono invarianti Quindi Se divido DX diviso DT Cioè se lo spostamento Rispetto alla stazione Diviso L'intervallo temporale Rispetto alla stazione Ho la velocità Del mio passeggero Rispetto alla stazione E questa posso Confrontarla Con la velocità Del passeggero Rispetto al treno Che sarebbe Un primo Quindi dividendo DX su DT Cioè la velocità O se preferite Potete usare Anche dei delta Delle grandezze finite Lo spostamento Del passeggero Rispetto alla stazione In termini Di intervallo Tempolare Sempre misurato Rispetto alla stazione Cioè DX su DT Lo ottengo Semplicemente Facendo il rapporto Di queste due grandezze Questa Fratto questa Qui raccolgo Un DT primo E lo semplifico Sopra e sotto E ottengo Questa espressione La velocità Rispetto alla stazione Vale La velocità Rispetto al treno Più Quella del treno Rispetto alla stazione Diviso Questo termine Che prima non c'era In Newton In Galileo Questo non c'è 1 più La velocità Del treno Rispetto alla stazione Diviso C4 Per La velocità Del passeggero Rispetto al treno E attenzione Mentre lo spostamento Perpendicolarmente Al moto Non ha Non è sensibile Al fattore di Lorenz Lo è il tempo Quindi cambiano Non solo La velocità Lungo l'asse delle X Ma anche quella Lungo l'asse delle Y E delle Z Perché? Perché cambia di T Morale della favola Abbiamo queste leggi Di composizione Delle velocità In particolare Ci focalizzeremo Su quella Lungo l'asse delle X Ripeto La velocità Del passeggero Rispetto Alla stazione Vale Quella del passeggero Rispetto al treno Più Quella del treno Rispetto alla stazione Diviso 1 Per il prodotto Del due De velocità Diviso c quadro Questa è la nuova Legge di composizione Delle velocità La legge di composizione Delle velocità Relativistica Anche in questo caso Vedete bene Che se c diverge Cioè nel limite In cui Ho velocità Molto piccola Riottengo Quella di Galilei Dove c'era solo Il numeratore Qui la parte nuova Il denominatore Quindi E' coerente Con quanto Ho visto prima Se Ho a che fare Con velocità Piccole Con Quindi Con particelle Non relativistiche Come si dice Allora Posso benissimo Usare Le trasformazioni Di Galilei Perché Da parte Al denominatore Va a 1 Quindi questo fattore Che è decresso Come c quadro Va a 0 Velocemente Ricordate che Siamo partiti Dal paradosso Che Se Fossero corrette Le trasformazioni Di Lorenz Del ciclato Di Galilei Allora Se per esempio Qui una persona Ferma sulla strada E qui Ho il tizio in auto Che si muove Con velocità V Rispetto a destra Se Rispetto all'auto La luce Si muove Con velocità C Allora La persona Ferma Sotto il lampione Dovrebbe misurare V più C Nel suo sistema Di riferimento Mentre L'esperimento Di Microson Moritz Ha dimostrato Che non è così E questo Viene perfettamente Incluso Nelle Leggi Di trasformazione Che abbiamo appena Visto Delle velocità Se applico La legge Appena vista Questa qui Cioè la legge Di composizione Lungo l'asse Delle Lecce Delle velocità Alla luce Vista dal sistema Di riferimento Dell'auto E Del tizio Fermo Sulla strada Allora U' È la velocità Della luce Rispetto All'automobile V È la velocità Della luce Rispetto Alla strada U È la velocità Della luce Rispetto Alla strada Ma se U' Uguale a C E lo mettiamo In questa formula Abbiamo che Il numeratore C più V Sulle posti Di U' C'è C Al denominatore C per V Diviso C Quadro Queste due C Si semplificano Rimane V Su C Se al numeratore Raccolgo una C Ho C per 1 Più V Su C Diviso 1 Più V Su C Questi due Termini 1 più V Su C Sono identici Al numeratore Del denominatore E rimane Solo C Ecco perché Qualunque sia V Vedete Qui va via Anche se L'automobile Viaggiasse Al 95% Della velocità Della luce Comunque La velocità Della luce Rispetto All'auto E rispetto Al tizio Fermo per strada È esattamente La stessa Indipendentemente Da V Viva via E questo succede Solo Se Stiamo parlando Della luce Qualunque Altro oggetto Che viaggi A velocità Diversa Da C Non ha Questa caratteristica Non ha Una velocità Invariante Quindi Morale Della favola Le trasformazioni Delle velocità Appena viste Ci garantiscono Che La luce Ha una velocità Invariante In tutti i sistemi Di riferimento Guai se non fosse così L'abbiamo costruito Apposta Però qui L'abbiamo verificato In tutti gli altri Casi La velocità È diversa Non solo Ditemi se posso Andare avanti È chiaro Questo è un po' Di algebra Ma si vede subito Che Stranamente Per quanto Possa sembrare Strano Qualunque sia La velocità Dell'auto La velocità Della luce C è la stessa In tutti e due Sistemi Di riferimento Non viene alterato Del fatto Che l'auto Si muova O no Anzi Addirittura L'auto Può andare Dalla parte Opposta È il risultato E lo stesso Che succede In un altro In un caso Diverso In un caso In cui parliamo Di un oggetto Che non è La luce Beh In questo caso Se L'oggetto Ha una velocità Relativistica Cioè Se stiamo parlando Di frazioni Importanti Rispetto a c Devo usare Come abbiamo fatto Prima La trasformazione Delle velocità Di Lawrence Immaginate di avere Un'astronave Che si muove Verso la terra A metà Della velocità Della luce 05 c E lancia Un carico A velocità Di 075 c Rispetto All'astronave L'astronave Nel suo Sistema Riferimento Espelle Un carico Verso la terra E lo Spelle A 075 c Se fossero corrette Le trasformazioni Di Galileo Rispetto a terra La velocità Con cui La base Spaziale Terrestre Osserva Il carico Sarebbe 05 P 075 P 075 1,25 c Dove Sommare Le velocità Cosa che Invece Ottengo Un risultato Diverso Se combino Se Le velocità Usando La legge Relativistica Che è Quella Corretta Se U' È la velocità Del carico Rispetto All'astronave E V È quella D'astronave Allora Rispetto A terra Il carico Si muove Con velocità Del carico Rispetto All'astronave Più Dell'astronave Rispetto A terra Sfratto Uno Più Il prodotto Delle due Velocità Diviso C Quadro Se U' 075 C V 0,5 C Ottengo Che la velocità Del carico Rispetto A terra È 0,909 C Il 91% Di Quella Della Luce Quindi Come vedete Comunque Più Piccola Di C Quindi Le velocità Non si sommano Come prima Ma si sommano In questo Modo Piuttosto Strano Se volete Ok Questo è il valore Corretto Della velocità Del carico Rispetto A terra Questo conclude La parte Di Cinematica Relativistica Cosa abbiamo Visto Abbiamo Visto Il principio Di Relatività In Stagnano Le Regi Relativistiche Sono Le stesse Tutti Sistemi Di Riferimento La Luce È Invariante Questo Cambia Il Concetto Di Simultaneità Primo Grosso Risultato Eventi Simultani In Un Sistema Non È Detto Che Lo Siano In Un Altro Anzi In Generale Non Lo Dell'orologio Cambiano Le Lunghezze Tutti Gli Oggetti In Motto Vengono Contratti Nella Direzione In In Si Muovono Per Pendicolarmente Invece No Rimano Inalterati Questo Viene Riassunto In Generale Dalla Legge Con Si Passa Da Un Sistema Di Riferimento A Un Altro Le Legge Relativistiche Si Chiama Trasformazione Di Lorenz E Mettono In Grado Di Mettere Finomeno In Sistemi Di Riferimento In Inerziali In Motto Relativo Uniforme L'uno Rispetto All'altro Queste Trasformazioni Includono Abbiamo Visto Il Fatto Che La Luce Ha Una Velocità Invariante Qualunque In Qualunque Modo Il Mio Sistema Di Riferimento Viaggi Cioè La Mi Astronave O La Mia Automobile Può Viaggiare A Qualsissima Velocità Ok Ma Nel Sistema Di Riferimento Dell'astronave E Della Terra La Luce Avrà Sempre La Stessa Velocità Mentre Qualsiasi Altro Corpo Che Ha Velocità Finita Comunque Ha Una Legge Di Composizione Della Velocità Che Gli Darà Una Velocità Sempre Più Piccola Dicola Della Luce A Breve Vedremo Qualc'è Un Motivo Dinamico Sotto Questo Ok Tutto Chiaro Fin Qui Bene Abbiamo Tempo Solo Di Iniziarla Usate Solo Un Secondo Ok Si intende Per Dinamica Relativistica La Dinamica Quella Parte Della Meccanica Che Coinvolge Grandezze Come La Massa Le Forze E L'Energia Spazio E Tempo Abbiamo Già Visti Velocità Abbiamo Già Vista Come Altra Il Principio Relativistico Il Concetto Di Master Questo È Quello Che Abbiamo Visto Prima Lo Riassumo Velocemente Parliamo Di Una Grossa Di Una Grandezza Fisica Che Ha Un Enorme Importanza La Quantità Di Motto In Ambito Classico Uno Delle Conseguenze Principali Del Principio Della Dinamica I Tre Principi Della Dinamica De Newton È Che Vale La Legge Di Conservazione Della Quantità Di Motto Totale In Un Sistema Cioè Se Ho Un Sistema Di Corpi Come I Due Carrelli Che Sono In Collisione Tali Che Le Forze Applicate Al Sistema Esterne Al Sistema Cioè Dovute A Oggetti Che Non Ne Fanno Parte Zero Allora La Quantità Di Motto Totale È Costanta Per Quantità Di Motto Così Intende Il Prodotto Di Massa Per Velocità La Quantità Di Motto Di Ciascuno Dei Due Carrelli Cambia Ma Cambia Per Effetto Dell'altro Se Ho Due Carrelli Su Una Rotaia Per E Si Scontrano Le Forze Esterne Al Sistema La Forza Peso E La Razione Vincolare Della Rotaia Si Bilanciano Non C'è Motto Verticale Il Motto È Orizzontale Ciascun Carrello Viene Alterato Ha Una Abilità Alterata Subisce Un'accelerazione Per Colpa Dell'altro Carrello Quindi Se Io Prendo Il Sistema Carrello A Più Carrello B L'insieme Dei Due Carrelli A Verifica Queste Ipotesi Cioè Le Forze Esterne Al Sistema Hanno Risultante Nulla Quando Questo Succede La Somma Del Vettoriale Delle Quantità Di Motto Interna Sistema Cioè La Somma In questo Caso Delle Quantità Di Carrelli Rimane Costante Nel Tempo Prima Dell'urto Ha Un Valore Dopo Dell'urto Ha Un Valore Identico Questa È Una Legge Molto Importante È Una Legge A Cue Difficile Rinunciare Per Uscire A Fare In Modo Che Valga Anche In Ambito Relativistico È Ripeto Algebricamente Un po' Laborioso Ma In realtà È Bastanza Semplice Il Principio È Necessario Modificare La Definizione Di Quantità Di Motto Nella Quantità Di Motto Classica Avevo Solo La Massa Che È Un Invariante In Quella Relativistica Ho Una Massa Moltiplicata Per Il Fattore Gamma O Quella Che Si Chiama La Massa Relativistica Che Dipende Dalla velocità A cui Si Muove L'oggetto Nel 1905 Einstein Ha Pubblicato Due Articoli Sulla Relatività Il Primo Si Chiamava Sull'elettrodinamica Newton Cioè La Resistenza Alle Accelerazioni Se Io Applico Una Forza A Questo Tavolo Lo Sposto Se L'applico A Un Tir Non Lo Sposto Perché L'inezia Del Tir Maggiore A Una Massa Più Grande Con Con Questa Nuova Definizione Di Quantità Di Motto Mantengo Che Rimane Valida La Legge Di Conservazione Quanta Di Motto Cioè Se Osservo Un Urto Tra Due Carrelli In Due Sistemi Di Riferimento Inerziali E Passo Da Un Sistema All'altro Usando Le Trasformazioni Di Lorenz Con Questa Definizione La Quantità Di Motto I Due Sistemi Danno La Stessa Descrizione Cioè La Quantità Di Motto Si Conserva Nell'uno E Anche Nell'altro Se Uso Invece La Definizione Vecchia Di Quantità Di Motto C'è Massa Riposo Massa M0 Per V Questa Non è Più Vera Cioè La Quantità Di Motto Non Si Conserva Più In Entrambi I Sistemi Quindi Questa È Una Motivazione Molto Forte A Cambiare A Generalizzare Anche La Quantità Di Motto E In Realtà Quello Che C'è Sotto È A Considerare Una Quantità Che Chiamiamo Massa Relativistica Che La Massa M0 Chiamata Massa Riposo Cioè L'inerzia Misurata Nel Sistema Di Riferimento In Cioè L'oggetto È Fermo Quando V Moltiplicata Per Il Fattore Gamma Cioè Dilatata Quindi Più Un Corpo Si Muove Più È Difficile Accelerarlo Più È Altra Sua Inerzia Di Nuovo Questo È Reale È Significativo Lo Posso Misurare Paradossalmente La Cinematica Che Di Solito È Più Semplice Ha Avuto Verifiche Molto Più Tarde Rispetto Alla Dinamica Vi Ricordate La L' Esperienza Di Nella Misura Di S.U.M. Dell'elettrone Fatta Da J.J. Thompson A fine Del Novecento Dell'Ottocennio La scoperta Delle Eletrone Ha Comportato La Misura Lo Studio Dei L'E.D.C. L'E.D.C. Catodici In Campi Elettrico E Magnetico Si è portato Alla Misura Di S.U.M. Ma Thompson Usava Elettroni Prodotti Per Termoionizzazione Si è Scaldato Un Conduttore Fornendoci L'E.D.C. Con Calore Alcuni Elettroni Si distaccavano Proprio Per Effetto Termoionico E Venivano Accelerate Del Usato Anziché Gli Elettroni Per Termo Unizzazione Elettroni Prodotti Dal Decadimento Radioattivo O Radiazione Beta Quelli Sono Relativistici Hanno Velocità Molto Elevate Sono Molto Energetici E Ha Trovato Nel 1901 4 Anni Prima Della Relatività Un Valore Di Su M Che Era Un Terzo Di Quello Di Thompson E Nessuno Sapeva Il Perché La Carica Dell'elettrone Un invariante Relativistico Sia Relativistico Che Anche Rispetto Alla Fisica Classica Non Cambia Quel Modo Com'è Che Trovo Se Ho Elettroni Relativistici Un E Su M Diverso Era Un Problema Aperto La Spiegazione È Data Solo Con La Masta Relativistica Perché Se Gli Elettroni Sono Veloci La Loro Massa Aumenta Quindi E Su M Diminuisce E Questo Se Volete Forse È Il Primo Banco Di Prova Delle Previsioni Relativistiche Qui Avete Un Grafico Dei Dati In Ordinata C'è La Massa Rispetto Al Massa Riposo In Ascissa La Velocità E Questi Sono Dati I Puntini Sono Dati Sperimentali La Previsioni Classica Sarebbe Una Retta Orizzontale Che Passa Per Uno Invece Qui La Massa Diverge Man mano Che Approssimo A C La Massa Ha Un Polo Una Divergente Quindi Più Velocemente Vado Più L'inerzia Del Corpo Aumenta Quindi Più Difficile Accelerarlo E Questo È Misurabile La Stessa Cosa Per La Quantità Di Moto Qui C'è La Quantità Di Moto Relativistica Qui C'è Quella Classica Ci sono Dati Un po' Più Recenti Che Cosa Comporta Questo Prendiamo Con La Nuova Definizione Di Quantità Di Moto Possiamo Usare La Legge Di Newton Cioè F Ugo A Non è Più Vera La Legge Di Newton Era Questa Attenzione Qui Comuncia Ad esserci Una Grossa Differenza F Ugo A M Per A Si Trova Solo Nei Libri Di Testo Scolastici In realtà Newton Non l'ha Mai Detto La Seconda Legge Della Dinamica È La Forza È La Rapidità Con cui Cambia La Quantità Di Moto O Momentum In 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 Latino Movimentum Contratto Se Utilizzo La Vera Legge Della Dinamica Applicata Alla Massa Relativistica Ho Un Effetto Immediatamente Molto Importante Perché Non è Più Vero Che La Forza È Parallela All' Accelerazione Se Derivo La Quantità Di Motto Ho Due Termini Perché Perché Anche La Massa Dipende Dalla Velocità Quindi Devo Derivare Anche Questa E Oggi Mi Fermo Qui Continuiamo La Volta Prosta Quindi Avrò Un Termine Parallero All' Accelerazione Ma Un Termine Parallero Alla Velocità Quindi Diventa Macroscopicamente Vero Che F Non è Più M Per A E Così Una Cosa Di Non Poco Conto Comunque Per Oggi Ripeto Ci Fermiamo Qui Grazie Dell' Attenzione A Di